E' il giorno della vigilia di Natale. Babbo Natale stava riposando sulla sua grande poltrona rossa. Russava talmente forte che gli elpi lo sentirono e iniziarono a chiamarlo Babbo Natale, Babbo Natale! E lui disse Oh, 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 ciao cari. Spreghiamoci, è la vigilia di Natale! Dobbiamo portare i regali a tutti i bambini. Ovviamente sono i bambini bravi. Babbo Natale legge in fretta le lettere e prepara con l'aiuto degli elfi tutti i regali per i bambini. Quando i giocatori sono pronti, Babbo Natale, così come vuole la tradizione, vuole in tutti i cieli e consegna tutti i regali a tutti i bambini del mondo. Suonando il campanello e dargli un bellissimo regalo per uno di ciascuno. Cari bambini, ricordatevi però che il regalo non è tutto. Spesso il dono più grande che possiamo ricevere è la compagnia delle persone che amiamo, ma anche un Natale inclusivo, vicino alle persone bisognose e sostenibile per noi e per l'ambiente. Grazie. Grazie. Grazie.